Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Shogun Total War. Oggi tenteremo di fare una bella battaglia navale. Abbiamo tante belle barchette piccine, medie e grandi. Soprattutto questa, l'ante grossa. Ho messo selezione automatica e guardo anche i robetti che mi ha dato. Ho fatto un minore di queste barche qui che non sembra affatto di quelli giapponesi, simili quelli orientali, ma quanto qua ci avevano anche questa. Mi guarda come si chiama questa navale qui. Nave mercantile Namban. No, deve essere quelle occidentali che hanno comprati giapponesi. Beh, ci può stare a fondo. Sono molto simili. Ha un cannone anche qua, poi. Ok, abbiamo pure delle bune pesanti, delle bune pesante, questa è super bella grossa davvero. Questa è bune con cannoni. Questa è nitor, maru, roba del genere. Buna pesante, poi barche leggere, eccetera eccetera. Direi che va più che bene questo come il dislocamento. Iniziamo la battaglia. Vediamo un po'. Di qua come sono messi. Va bene queste. No, non ci credo, c'è una navi mercantile. Wow. Nel come, navi mercantili? Tutto mi dite se non tutte le navi. Ah, ecco. Qualcosa c'è. Come sono una battaglia di selezione automatica, ma non mi sono tutte le navi mercantine nemici. Non vale così. Questo è un attacco non è un convoglio, non è una battaglia navale. No, d'accordo. Va bene, facciamolo. Mandiamolo ora l'attacco. Ah, mandiamci con le piccine per ora. Mandiamoci 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 con le piccine, piccine. Sta qua. E' quella che ha il raggio più ampio. E' quella con gli archi. Bene. Bene, allora comincio ad attaccare. Terza, quella. Oh, con le bombe incendiare. Bene. Mandiamone agio, dai. Anche voi. Poi abbiamo te che mi attacchi lei. Vai. Ne ho forse tre navi. Mi bastano per questa. Che fanno? Ho fatto una selezione automatica e mi ha messo... Uh, fanno arrivi al cantirio. Devo una battaglia un po' più tosta. Va bene, dai. Ormai dovrei che ci siamo. Lo facciamo. Siamo anche su una bella mappa, eh. Va bene, bella, bella cittadina che è questa qua. Ah, è bella. Un Buddha. Ah. Un Buddha. Va bene, lasciamo stare. Beh, ci siamo. Dovremmo attaccare a minumenti. Questi dovrebbero già attaccare. E attaccano, attaccano. Attacca lei. Che siete praticamente a minervanti. Moschetti a miccia. Ah, bene. Ho visto la roba da lì. Vai. Uno è già andata. Però... Passa alla prossima. Che questa hai. Dall'idea che ci sei. Il proprio bombo incendiale è molto efficace, eh. Non posso dire. Lancia, lancia, bomba. Cosa fanno? Si buttano a mai? Si buttano a mai? Ah. No. Ho preso fuoco la mia. No, si sta ritirando la mia. Via, 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 via. Allora. Ritiratevi. Una delle nostre navi è in ritirata. Eh, lascio questi ritiri. Prendiamo questa. Vediamo un po' se ce la fa ad arrivare qui in tempo. No, chiamiamo questa. E gli odiamo di attaccare lì. Aveva comunque un abbono pesante. Dove non te l'intervenire. Ah, ci manca poco. Ah, ci stai ritirando. Bene. Abbono contro la sedia. Ah, ci hanno i fucili questi. Pensavo ci avessero gli archi. Invece hanno i fucili. Votato. Abbono media. Cos'è questo affare? Scusa. Boh. Quello affare che c'ha qui il soco giallo. Che cosa serve? Serve per l'Iran budget? Che serve? Oh, vedremo. Non ne so molto. Però dai, una si sta già ritirando però. Se lo vogliamo. Su questa faccenda. Facciamo anche la nave emiraglia, dai. Facciamo arrivare anche la nave emiraglia. Attacca, attacca. Anche che. Attacca lì. Barri abbono con cannoni. Ah, un po' scausa eh. Quello cazzo è forte. Ho otto cannoni. Quante queste non ti hanno? Una dieci. Ma queste si è resa. Bene. E dobbiamo passare alle prossime. Attaccate quella, semmai. Ok. Ah, la nave emiraglia è andata a livello. Guarda là. Non so perché mi ha messo la nave emiraglia di uffa. Devevo disabilizzare. Nelle battaglie le devo fare scegliendole io. Allora. Dai, che ci cendi aerea. Attaccate. Allora, stai... Eh, si buttano in acqua. Allora, lì mi sa grandono. Stanno buttando tutti in acqua. Sconfitta questa, la battaglia è praticamente vinta. Ah, è solo qui. Ah, anche questa qui con moschetti amici, giusto? Con moschetti, va là. Questa barca è andata. Questa barca è andata. Questa è andata. Sta bruciando. Non tiratevi. Nei siete rimasti incastrati. Fanculo. Beh. Uno con cannoni si sta andando a fare. Non può quando spara? Ecco, pronta, mi sa, per sparare. Vai. Boom. Boom. Non mi sa cambiata. Infatti, sai cosa? Ah, la battaglia ormai è vinta. Questo... Eh, anche questa qui mi si sta ritirata. Va bene. Ah, abbiamo due barche ritirate, su. Ci può stare. Ah, anche se si arrende. Ah, quante volte c'è a mare. Ah, fumo nero. Ah, la fumo nero che fa con la nave laggiù. E' uguale alla torcia di segnalazione, la nave. So che è più grossa. Questa. Eh, ecco la nave migraia. Alla fine è arrivata. Alla fine, eh. Ah, la prese tutte, va. La prese tutte. Vincitamente. Mi manca una. Vai, su. E' vinta la battaglia. Ecco, ho fatto praticamente questo tutto. Questa battaglia. Magari vi... Riprendo il video quando ci sono le... Le... I risultati. Che li dando col caricamento di fine battaglia. Eh, strano, ma è così. Però, direi che questa battaglia, beh, era un po' semplici shot. Perché, insomma, ho fatto... La scelta automatica. E mi ha dato tante navi belle a me. E poche a lui. Ma, nelle prossime... Beh, sceglierò io le navi. Visto che se mi danno le navi mercantiliche non sono buone da nulla. Perciò, ci vediamo alla prossima battaglia. E... Ciao a tutti. Ecco qua. Questi sono i risultati della battaglia. Schierato. Dieci navi. Sconfitte. Non abbiamo capito cosa intendono. E nemico ucciso. Sconfitte forse quelle... Uccisioni? No. Perdite? Forse. Forse. Forse sono le perdite queste. Queste invece sono le uccisioni. Zero navi. Perché non ne ho affondate punte. Non ho ben capito cosa sono... Cosa intendo queste statistiche qua. Però, va bene. La battaglia è durata quasi 8 minuti. Quindi vi dico che è tutto. Iscrivete al canale. Mettete mi piace. Ciao a tutti.